Siamo con Fra Bruno Variano, neoeletto vescovo ausiliare per Cipro e vogliamo chiedergli un messaggio per le tante persone che sicuramente in questo momento lo stanno accompagnando con le loro preghiere. Ho ricevuto con sorpresa questo invito divino e ho risposto dopo aver frequentato la scuola di Nazareth per nove anni dopo aver vissuto nella casa della Vergine Santissima nel luogo del Sì di Maria, quel Sì che ha cambiato le sorti dell'umanità. Ho risposto sì, Fiat, che il Signore possa fare la sua opera nonostante i miei limiti, le mie difficoltà, però Lui può fare tutte le cose. Per questo mi dono davvero totalmente alla Chiesa, come mi avevo già donato la Chiesa con la vita religiosa francescana e sacerdotale adesso come vescovo, servendo la Chiesa e per la Chiesa, come ci ha insegnato il nostro Santo Padre San Francesco, di essere veramente nella Chiesa e per la Chiesa. Grazie, grazie alla preghiera di tutti e chiedo di continuare ad accompagnarmi con la preghiera in questa nuova missione. Pace e bene.